Non può mancare una programmazione unitaria e concordare a degli eventi. Parola di confesi arcenti e fiesa regionale che da anni stanno lanciando l'alarme sull'argomento, costa tanto un accavallamento delle manifestazioni estive, che può arrivare anche a mortificare l'economia del territorio. Solo nel weekend, infatti, nel giro di pochi chilometri, si sono svolti ben quattro eventi in contemporanea, Giostra Caleresca e De Borghi più belli d'Italia, Ube De Pelini, festeggiamenti patronali alle frazioni Cavata e Badia. In un territorio che dovrebbe programmare il proprio sviluppo economico sul turismo, sulla cultura e sulla valorizzazione dei prodotti tipici e tradizionali, interviene Angelo Pellegrino, direttore regionale fiesa, c'è bisogno di una programmazione unitaria e concordare a degli eventi. Non è più possibile che negli stessi giorni, alla stessa ora, in ogni paese c'è qualcosa per animare il tempo. Per Pellegrino tutto ciò porta al disorientamento dei turisti e spesso allo svuotamento di iniziative di alto profilo, da cui l'appello del direttore della fiesa occorre un'azione unitaria di marketing territoriale che mette al centro l'interesse generale di tutto il territorio peligno e che permetta di fare turismo durante tutto l'anno.